Benvenuto Cellini Non è un omonimo del famoso orafo, è esattamente quel famoso orafo e allora come dire si può lavorare con le mani e le mani sono profondamente collegate al cervello, direttamente collegate al cervello, forse il cervello è collegato alle mani. Lavorare con le mani è fondamentale e aiuta a ragionare e a percepire meglio il mondo. Il mondo non si legge solo attraverso gli occhi, solo attraverso una pagina, solo attraverso uno schermo, ma si apprende ancora di più usando tutti se stessi. L'incontro con Galdus per noi vuol dire questo, vuol dire un'idea di lavoro e un'idea di società e un'idea di cultura profondamente condivisa, non specialistica, ma propositiva a tanti livelli diversi del paese. Galdus inizia qui e finisce qui, no, ma insomma è una realtà in sé conclusa evidentemente, ma è un ottimo punto di partenza, è un ottimo punto di osservazione per capire il lavoro che ci tocca e che tocca questo paese. Che è un paese di artigiani, che è un paese di profonde competenze, di mestiere e che si è trasformato, non si capisce perché, in un paese di burocrati e allora forse l'esperienza di Galdus che riesce a mettere a contatto scrittura, una densità e una tondezza culturale di un certo tipo con mestieri che andranno al di là di questa esperienza, secondo me è un ottimo punto di partenza e di riflessione per tutti quanti. E qui mi fermo, grazie. Grazie.